E benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua nei murder mystery Perché... Sì, voglio fare un murder mystery Qui, di lag Quindi facciamo sempre una classic Perché sì E il filo del microfono Sistema la bulla Fermi tutti Lo vedete questo grafico? Vuol dire che il 94,3% Quindi probabilmente anche tu Che stai guardando questo video Non sei iscritto al mio canale Perché non lo fai? Cioè, se tu ti iscrivi Puoi vedere Quando esce un mio video Ti apre la notifica Green and Blue Gaming ha caricato un video E l'ha pubblicato Quindi lo puoi vedere Lo vedi prima di tutti Perché non ti iscrivi? Dai Non ci vuole niente Un tasto Ah, e attiva anche la campanellina Perché sennò YouTube non te li manda Non è colpa mia YouTube che... Purtroppo Detetti Wow Quindi Deve uccidere L'assassino E che ce l'ho pure Scritto Ma come si vanno Così vanno a fare Ste cose con i common block? Perché so che si possono fare In vanilla Senza common block Comunque Un gold E l'haga Arco Che non userò E cavallo C'è un altro Anche il mio programma Di registrazione Che Quello Ah, non è lui Quello vecchio Sgranava Raggava Già Dal video No voice Però Avendolo Compressato Senza Settaggi Come li uso io Era sgranato Per la compressione Per renderlo più leggero Perché Sennò pesava 8 giga E non potevo Caricarlo Perché C'ho 0,5 In upload Ma Petagli Che 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 è? Che è? Let's leave the street Eh, mi dovevo muoooooo Oh 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 Fuori che c'è? Pensiamo In planes Quanto piccola Vabbè Io potrei andare Sotto così? Che è sta roba? Perchè? Perchè? Andiamo Ma Premo d'anno No No Sicuramente No Comunque Direi Di Ligian Di giocare Un'altra partita Sotto Sotto All'anno Sto Challenge Qual è? Questo qui Parcour 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 Che Molto Difficile Innocente Perfetto Ora No No Se il peso Dai Sta roba Quello Non è un po' Sto per nascondersi Comunque Allora Allora Vediamo Un po' Ok Stavo già pensando Che quelli erano Gli assassini Che quindi ero morto Però fortunatamente No Ok Ho fatto un po' Già il cuore Sono Blind Ho vinto Yeee Perché sta Perché sta Stavendo tutto E perché si è Buggata la mano Si era Buggata La mano Ma Boh A 1.8 Ma da Ma dove sia? Ah In un'altra Mappa Li voglio io Questi letti Ma perché? No Scomparso Ma che appare Ho visto un bug Assurdo Però Ho solo due Texturi Che è un turmone Di lana Chi è che sta Piazzando Della lana? Ma va a darmi Il radio Si Si Ok Va bene Regan Dai Facciamone un'altra Partita Di barrier Mappa gold rush Quindi sponerà Tanto oro Giusto? Avevo visto Bella faccia Senti offeso Ovviamente Ciao Eh beh Esci fuori Non vuole uscire fuori A quanto pare Quindi Vi vediamo un po' Perché Non cammina Zero is border Zero è Dove? Non c'è Zonica forse Ciao No Ecco Perché non facciamo I blocchi invisibili Si Vedete Barrier In tab Cioè In F3 Qui Barrier Sarebbe Blocchi invisibili Gold rush Stazioni di treni No Quanto oro Sta spawnando In questa stanza Ma Proprio su un cavallo Ciao Artus clear Che fa? Ah Ok Poi 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 col cavallo Poi se ho il cavallo Mi prendo l'oro Poi Ci chiude Ok Sanno piuoto di tutti Qua è morto qualcuno Ok Che è quella roba lì? L'avevo vista Eccola qua Che è sta roba La palla La ballo di pieno Che si vuole col bianco Perché chi si bagga la mano? Eh Beh Cioè Se scelgo No C'è Corro Lo so Roby smorder Ehm C'è ruby Dov'è? Non esiste Un'altra cosa che si chiama ruby Ah no Vabbè Sì Sono cercato io E si bagga la mano Ho vinto Yeee Eee Eee Grazie a tutti.